musica 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 ormai i nostri video ecco te qua mazza sei meglio però in virtuale io te volevo cura me fai male si non sparare i compagni ok volevo pure partire sei pronto? io sto spara a te aspetta non ho preso niente mi fai male però eh ti voglio dire ma hai levato 6% eh ho capito eh cala stanno la stanno la pronti partenza via let 4 dead 2 occhio perchè ah mo se tagliamo spara sulla porta no apro apro un po' pronti e siamo partiti in questa puntatina oh guarda un po' che gente ci sta qua vai vai vitale vitale e abbassato stanno appelenati eh probabilmente c'avemo l'unica donna del posto guarda come stanno appelenati occhio dimmi se c'è una sorta di tattica da utilizzare si quando io sto davanti tu ti abbassi quando sparo senti io copro il corridoio occhio che c'è un hunter stava qua ho preso no è vivo ma ha preso ma mazza ma mazza ma mazza ma mazza ma mi sta a tirà tacci tua oh si occhi alle spalle che stanno arrivato è ripassata qua quanto cazzo occhio guarda com'è grosso questo ciao no questo muore subito è quello grosso è il tank che è tosto aspetta adrenalina 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 che c'è una panza oh ho sparato a lei occhio c'è lo skitter l'acido del merda merda ora arrivano una marea mettiamosele fuori mi arrivano da tutti gli inizi no tranquillo questo gioco merita comunque ti mette l'ansia occhio sprat sprat no ho preso un test signora scusi se le abbiamo sporcato il bagno allora io intanto mi curo non vuoi dire poi voglio innappiare l'adrenalina come cazzo se metteva l'adrenalina sempre che la rotella no che adrenalina già mi sta appiando l'infarto aspetta aspetta stava qua l'adrenalina eccola dov'è l'adrenalina dov'è l'adrenalina l'adrenalina qua prese ah senti mi sa che giocheremo a questo del gioco eh allora io proverei a aprire qui no senti parlo da qua passiamo da qua no ma quelli erano autotossici mi sa che erano vivi i pagri paquati stondeggiavano stavano là andavo dritti eh occhio eh mi date passamme davanti quando hai spalle pure ste merda oh ma quanti so eh mi stanno tutti a meno a me eh mazzameli c'ho un hunter che mi ha bloccato arrivo 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 guarda si vedi mamma mia quanti sete dove stai minchia vabbè eh la c'era una bella festicciola proviamo ad andare qua aspetta che te dove curavo ferma si stavo a morire praticamente ma hanno fatto un culo come l'or de notte via qua via qua via qua un compagno il tizio che ho incontrato qui ah ellis mi sta cura ma t'avo già cura no che il coglione l'ha sprecato no no devo andare per forza dell'ha fin s'apre aspetta che devo arrivare mi distraggo facile ho attenzione nella farfalle ma qui se ma non è dato stiamo venuti no ma qui se siamo giù è dato stiamo venuti eh arrivo all'affondo a destra sparo in testa idiota intanto chi me denunci non vedi che posto che fai oh ma che fai ah guarda hai visto tutte e due cioè ci hanno salvati i bot oddio mi sto a settimana occhio boomer no sto a ricascare di sotto allora non vedo niente sto a sparare tutto tu quindi levate da davanti col destro mi pare che gli dai una botta si aspetta non ce sto a capire un cazzo ma perchè ero ricascato te sotto vabbè è una cifra che non ci giochiamo ah ed è qua ed è qua ed è qua vieni vieni occhio vanno alla sopra ma che sei magnata questo è grosso occhio ma questo evita l'acido tossico dice grazie se me lo dici dopo che ma evita il tossico non l'acido tossico non hai visto come stava prendi vedi almeno ci stanno i botte che te curano sono utili nella cifra sono più utili di mettere testa e stanno a fare tutto loro ok questo chi è medici senza frontiere ma ha curato tutti prendi la bile la bile del boomer dove cazzo stai? sto qua che ce devi fare? ce l'ho io un po' di bile un po' di bile la bile del boomer li attira li butti per terra e loro vanno da seconda andò andò ah allora hai studiato senti apro questo me lo ricordo no che apri? dove apri? ah si può aprire la porta ma perchè a me non mi da da aprire la porta? e ristamo andò stavamo prima no no ha rivellato ha rivellato oh oh dov'è? ah ma l'ha ammazzata l'ha ammazzata te occhio questo è stronzo levatela lì l'acido tossico quando l'ho giocato lo giocavo io questo sul console non c'era questo dizio dell'acido tossico non c'era? questo dell'acido tossico quanto so acquato? occhio pure dalla stanzetta sto dietro a coprire io copro di qua e tu copri di là ok uno è andato a finire sotto eh chi c'è? no chi è? ah ma ha messo solo per terra che cazzo è? perché ci vedo grigio? stai? ah perché c'è il fumo occhio al boomer oh la puttana l'ha presa in pieno non arriva una caterna mira dietro e non vedo un cazzo però quello mi pare non so no ma proprio un ondato vabbè però la campagna è fattibile a survival ma hanno rotto il culo l'altra volta lo sai che c'ha però? si muove bene non lo so perché andiamo passare qua ha preso fuoco se chi è il fuoco e me trovi ed è qua no c'è trovi qualcosa che è sto coso? quello che ha scussarello quello che ha scussarello e qua che è stata una scarica per defibrillatore te lo posso usare addosso aspetta libero come se usa? ma non gli cedevi devi premere come quando spari aspetta fammi fumare un attimo fingi che stiamo davvero lì e saliti a stiamo un attimo ma io intanto mi curo ah no devo aspettare che che mi defibrilli no ma brutta merda mi vuoi curare? no non sparare i compagni servia una cosa sola non ce l'hanno me sa ce l'ho io aspetta ma no è presto buono era perché odio questo col cappello non c'era un motivo per il progetto andiamo ma perchè mi richiudiamo la porta? perchè la chiudo io ogni porta andiamo oh minchia via 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 tacitua non campiamo tanto così chi è sto fuoco? chi è? oh ellis ellis è un bot quindi piamolo per quello che è un bot andiamo va e ma ci sta pià per culo c'è una festa qua giù eh non c'è un bot che è un bot che è un bot che è un bot che è un bot si si e mori puttana se non ci fa caso che poi me ti son messo davanti no sti cazzo tanto sai quante volte ci andremo a finire così andiamo via ascensore per finire sto pezzo me sa guardi! però guardi tu zombarelli se volessero in ci siamo tutti? si ma passavamo in una stanza tutta infuocata come fa un percorso in mezzo alle fiamme vado a ridurre un attimo i cuori vedi? fumo? no senti ma Planetside se ne pannaffo un culo tanto vabbè poi dopo lo metti tanto ciao Planetside ciao Planetside sono un piacere vero troppo complicato farlo partire no non mi è uscito dal gioco ti prego solo ridotta a icona t'ho pagato gioco non c'è credo non mi riapre la schermana del gioco ok ce sto ce sto hai allertato l'orda perché te c'è la mitraglietta perché l'ho trovata appena sono uscito eccola là ce ne sta una per terra e c'è pure questo ah sto per sentire al culo pianti dolorifici qua hai capito devi morire occhio to andiamo giù ci stanno i fucili qua che dici sono meglio si dove stanno qua dentro sta stanzetta che avevamo appena fatto meglio il fucile quindi non è a cappa non fa così è il fucile proprio quello a bu no ah ecco le fermate che ti devo curare guarda quanti sono quello è morto da solo dove stanno i fucili? non ce stanno qua più vabbè davanti qua eh non ce stanno ah oh mica l'ho visto questo però questo è il fumo se l'incoglionito si e dell'evidenza del blu io de qua no de qua no si de qua si non ce l'abbia da sparare a te però questa è di qua solo che sarei buono teoricamente siamo quattro in tutto il mondo spartano oh oh e c'è una vestigio là ho sentito qualcosa che non dovevo sentire sì ho la tizia che mi sta a sparare a me no ma sta a roia a me mi deve sparare no de qua non si se va de là de qua eh ci mette però di qua oh una pappa che è? oh guarda com'è grosso a me sta tanti ne so non mi convince il tuo fucile però lo sai eh ma gli danno a botti di secca sì però ma come te posso dire è lenta la ricarica vedi che bello gli alzo un po' del braccio ma chi te si cura mi sto tantichiamando aspetta che mi do una curata io devo curare questo ma ti rendi conto via qua ah via che siamo abbiamo finito stanza sicura yeah allora munizioni wow oh io sono ultimo hai ha ucciso la maggior parte di infected Thorbac io ne ho ammazzati due commessibile sì ma i speciali ne ho ammazzati quasi tutti lei sì vabbè no c'è qua a fine però vabbè ma non pensasti i numeri in bonno ti incazzo no io c'ho ammazzato non più di te sono pari pari quelli di quando sono andato nella stanza col fumo da solo e voi state a prendere i fucili metti in pausa un attimo che mi è arrivata Federica eh 7 ferro siamo ritornati io del più al medichetto almeno ti rendi utile faccia da culo no ma io no ma lo sta ah eccolo il fucile al medichetto la mitraglietta che già la preferisco ma mi ricordo che c'era questa è un'altra ma perché questa ha sparato la porta mamma mia mori rochelle ready aspetta aspetta spara in testa rochelle pure te divertente mi fa cazzo stiamo nella nella safe house beh sanguina però eh sto cazzo ah no era ferita da prima guarda un po' brava rochelle così non butti i colpi uscimo 3 2 1 vai se si leva oh oh guarda un fondo stanno visti visti io vedo se arrivano da 340 io cerco sempre le miraglie alla testa ma perché almeno risparmi dipende perché questa per esempio non è preciso io devo capir non state voi per coprire altri radii perché se no non ha senso io sparo uno morto dobbiamo andare giù sud e qua ma arriva il mondo la monotov la monotov io copro a sinistra tu a destra vabbè coprimo tu eccoci eh non so pochi però eh solito di sparare anche o a ellis sarebbe anche indicativo tu me ne la vediamo cazzo ok non sperare i compagni me l'avrà detto 900 volte ma l'hai visto le witch caputana guardate sto per morir aspetta che te curo no no ce l'ho ce l'ho ti ho tolto stai ando vai avanti se stai per morir te stai cura da solo si grosso grosso grande grosso e fregnone sto cosa allora ora dovremmo considera con qui di dente sei fatto un complimento tu cuori lo so che poi fai più uccisioni ma fate sembrano no no allora dove era che toccava niente qua mi ricorda qualcosa poi calcola che sto a giocare con mouse la prima volta che ho gioco l'life for dead con mouse perché c'era viso la console yes questo è il cazzo per tu occhio la sui la lì ce l'ho chiamata puttana arriva arriva oh ma non mi sta ma ancora ne è morto chi è che sei te che stai per morire per rianimare sì ellis come te chiami rochelle puttana una guarda sti bastardo no però te ma mo che stiamo vedi con la cosa rossa che vuol dire che stiamo per morire allora mo tocca a me qua dentro c'era che siamo tipo malati vabbè là mi curo te non ce l'hai per te no no problem stai peggio stai peggio devi qua che te curo quanto c'hai te mi pare di meno no stai quanto a me ma che curi a me così poi mori te vabbè ma te sei più grosso coprite più allora avanti te che a me mi viene da ride diceva quello oh la bella accetta senti che c'è qua dietro no ma c'è una festa al mcdonald dei ragazzini quella sì vado eh dai ricominciamo con sta storia delle porte bello massa bello l'ho fatto bene a venire qua mi sa che mi pare che c'è un pacchetto che se lo piazzo c'è un pacchetto che c'è un pacchetto che se lo piazzo aspetta via qua via delle munizioni incendiarie sì e ora dobbiamo aprire questa eh già guarda qua si vede nei mani attraversa la porta pensa quanto sta la spinta mamma mia quello come era grosso eh no ma che cazzo giochi oh chiù ma guarda guarda dove porto sto giochi ellis lo ammazzi sto giochi io sto per terra ecchemi sei in piedi mi sa che era scritta sei morto vuol dire che sono morto no devi aspettare la fine del turno eh vabbè capirei io sto vedi lo stesso alla partita no sì ma non è che la cosa sia estremamente divertente questa messa è generosa la prossima volta col cazzo il mondo chi zombie se deve essere generoso nonna quante volte mi sta in mezzo al cazzo però questo eh sto ellis qua sto la stella levate il sud di da bocca quando parli non capito un cazzo dico sto ellis è proprio un dito al culo non ammazza nessuno questo è il ha protetto otto volte non te lamentare eccolo e mo ellis ti ha riservato vedi boomer morto bravo ellis non sei proprio inutile penso a più di di te me sto soprattutto sto stiamo pronti vedo che andiamo qua qui vedo un male sì però non c'è se vuoi andare tocca a salì ah sì c'è la scaletta vedi vabbè questo ho i tempi giusti e cose giuste ho gestato un bel immediato poi mi sto a divertire a guardare cosa andavate qua scusa ma se esco e rientro nella tua partita no no ma quello giallo è lì che vedo ieri sei te e che sto a fare ti vengo apri la porta aspetta ecchi te e perché stavo qui perché ti mette più avanti ti fa arrivare a un certo punto che fa te punisce sì te fa che serve la danica di benzina per spargela sì la butti addosso e poi gli spari io direi cominciamo a chiudere qualche porta hai fatto hai fatto una brutta fine forse sta un cesso eh ma pure io non conto che morellis non conto che morellis non conto che morellis non conto che morellis ma che è un tank no signor tank esci esci mi ha messo per terra eh ma non more mai è quello che ti dicevo questo è quello che ho scappa morto meno male sì sicuro avrà abbassato ellis è un cecchino hey man hold up vaffanculo boomer di me mamma mia guarda come sta boomer del cazzo boomer del cazzo medikit medikit e qua medikit in prima linea scusa no l'hai detto veramente cazzo speravo che era stato un bot non puoi dire una cosa del genere oh che cazzo ma sempre con me te lo devi prendere buono stai tranquo senti che me pio qua che ne so che te pide io me pio un caffè te sta mitraietto ma si basta che ne ha americana che è in verità io me so peser pompa e dati i nomi aspetta guarda che aspetta è stata la fine ma la sono ripresa in del culo mi devo curare chi è lo sveglione sulla cosa verde io qualcuno entrerà da qua no peccato che non c'è una porta da metterci è in verità è in verità è in verità credo che... oh mica l'avevo visto aspetta ma lì vio da qua ma lì vio da qua ma lì vio da qua si occhio buona sera buono questo questo spara a doppio corpo chi è? Roscella corri oh reloading shoot the baton reloading 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 ma chi è che ha preso? eh questi stanno a giocare da soli i buraci si praticamente dai botte su carina sta modalità a campagna perchè c'hai le pause mi piace dove vai oh mi sa che devo salire in tutto io oh aspetta non t'avevo visto no perchè ho visto una linguaccia che piava quello mi sembra al posto non ti tocca a nà sicuramente che fai non vai dove c'è una lingua ma si dove c'è un linguone uh medikit buono buono come il pane eh dai una curata a te stesso stai sofficando dici ma è una cosa de moda ma è una cosa de moda sto provando le camminate per diventare più figo era il moonwalk si oh muovo dove stava andiamo sopra o di qua ma io già sento una cacciara mi sa che sta arriva a tanta gente Roscello e sto porascio sta andando a pazzì oh oh guarda che bello attaccati alla ringhiera oh mamma mia ma perchè i certi morono prima aspetta ma perchè continuo a sparare a maddoso Elis e ho capito mi passi davanti andiamo di sopra comunque è colpa tua sto a sparare a quello che arriva i cazzi sua tranquillo poi lo rivedrai anche nel gameplay e poi andiamo di qua si 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 mi ricordo ci siete? si va bene è un po raccio Elis sta un cesso dove stai? ah stai davanti eh quanto cazzo mi sono girato e mi sei passato davanti ok what's up what's up prendi mol oh oh no proprio adesso dovevi che sta a fare quello che fai sta a scarca arbitro io stavo a sparare questi qui che c'è una bella bella che stava olimpico si infatti mister la partita se la sono persa ebbene penso proprio si questi sono i spettatori della Lazio purtroppo guarda un po' che c'è qua a K47 oh qui se ti piace c'è sta la K47 vedi la roba oh voglio la K a K ma vedi c'è pure questo più a questo no io mi vado di pompa che mi piace detta così sta è brutta e lo so tanto non c'è una lira nessuno ah qui devo parlare con il proprietario per negoziarmi per farci imboccare aspetta hai raccorto ormai il medikit tutto il medikit ce l'ho qua c'è il medikit il nastro pure chiudiamo le porte quando imbocchiamo non dovesse arrivare qualcuno e chi li apri nei zombie no sfondano la porta se sanno che ci stai vuoi te che distruggerà la cisterna liberando la strada ah mu c'è un perdito al culo qua niente male pensa che ci potrà sta per strada se quello stava chiuso là dentro aspettando noi quella dovrebbe essere la porta del negozio quindi dovremmo andare là dentro tecnicamente mi dice sei pronto per combattere l'urda fino a moda l'ho fatto no pensa quanti sono mu come si metteremo perchè tu se vai là giù non vieni dove stiamo noi e tu fai da bersaglio da tiri e io gli sparo con karma figo mazza non vedevo l'ora di farla sta cosa e lo so e lo so però qua c'è paura che quando aprimo vado eh ma dove stai dentro il negozio e io sto da tutta altra parte recupero la coca dentro il negozio eccolo ah la coca coca io pensavo la cocaina no bada coca 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 eh te perchè la te l'hai per scontata ma dove stai oh una lingua mi ha preso l'imortasci tua e stava romper culo guardate ma dai e ti die lo so fascio dove stai ma dove cazzo sei vabbi di quanti ne so che venite a starvar culo che cazzo stavo a farla fuori non lo so dove stai Ho perso un po' più visto Ma prima stavo a farsi i cazzi su una barcorata Poi via a aprire il negozio e a fina l'orda Mi sono trovati tutti addosso Se qua la lingua mi piava e me li passavo Sto bastardo, perchè te che hai fatto Dalla barcorata hai soffato oltre la siepe E certo! E io stavo a fare tutto il giro Ma perchè stai a fare? Ma io non stavo sulla barcorata Stavo sotto, c'ha fretta Prima sta a far brunare con Roscella E poi soffa dalla barcorata Ma magari te sei magna Questo dietro è tutto più a destra Ma fai notato, sta a vedere che non sto a giocare Che ti sei pieno a destra Non è che ti torno fai male Dai in segreto Ho pure il fucile è buono Ah sei morto? E' da mostre? Ah ecco perchè dove sono Roscella Io qua, ma sarei morto pure Ellis qua Ma spero che mori pure te Ma devi soffri tanto Entra? No, capirete perchè non ne viano freddicati Vi è dentro Roscella il touchy tua Ma io il compagno non ce l'ho sto Roscella? Vuoi venire dentro che chiudo sto cazzo di porta? Boh la lascio fuori Vaffanculo la lappiata con la cola Abbandonala, come hai fatto con me? Come hai fatto con te? Siamo oltre di tutti da una parte e te stai con un'altra Di tutti che dici te, noi siamo due a decide L'altro due non lo so che fanno No vabbè Quindi quantomeno se dovessimo votare Non mi dica in botta Valco Poi guarda L'unico strozzo con la lingua del cazzo Dove aprire il nambino Se gioco più con te, vaffanculo No ma considera che mi sono perso Ma vedi quanti sono Tanto Roscella vince da tu, ma guarda Il botto e finisce la campagna Rilogando qui Io vorrei giocare Eh, se la facciamo No lo sai che è una cosa vera Però sono già due volte Vedevo assicurare, cioè Cerchiamo di rimanere in bicicletta Eh nooo Roscella, Roscella Ammazzami Brava, brava Roscella Brava Roscella No vabbè ma qui ogni volta C'è sta l'orda carica E' più barbotta che c'è Rilogando Spara Roscella, spara Brava Cicci Eh, hai guidato adesso un po' No vabbè No, così indone Chiavano mai Ho la cola, vabbiamo Perciò No, vabbè La macchina No, Roscella Oddio mio Cazzo delibido, quanti sei? Ma poi con tutti i morti incazzati, senti? Io me ne è fannato tanto la... non sto a fancazzo! Dov' sta la coca? Ah, qui è arrivata! Devo cercare di arrivare a portarla a sta cazzo di quella con la prima che arriva un'altra ondata! Vieni Rochelle del cazzo! Eh, ma l'ha presa! Eh, come no? Ce l'ho, ce l'ho! Ma l'ho persa! Ma l'avevi proprio presa a metà! Cioè io te... Te lo volevo dire perché te mi avevo convinto però... Game on baby! Porca pittano! E lei va bene! Potessi romper un po' per culo! Oh no, lei va bene, lei va bene, lei va bene, lei va bene! Ma quanti sei? Devi usare tanto il destro stai quando c'è! E devi usare destra e scappare e spostarci da dove danno un cagliato! Eh, provarci! Vabbè state pure in due eh! Ma tanto ci pensi una Rochelle! No, in due è impossibile quasi! Grazie! Però Rochelle ha protetto Ariarchi! Guarda e viva eh! Come on, come on! Puttana! Grande puttanuna! Cura me Rochelle! Bravo! Dobbiamo cercare di arrivicinare a sé! Dai Ariarchi! Via Rochelle! Io te mollo! Nooo! Come ti trovo davanti! Tu ti ha salvato lei cento volte! Anche se è fintato di salvar meno di una volta! No! Non ti preoccupare! Sulla qua coda di merda penso! Vedi hai abbandonato Rochelle e sei stato volito! Hai visto quello che gli è zonato a testa? Ma te meno hanno come dei tempisti! Non so zombie! Te piano a carci! Te piano a destra! Ti saltava in testa! Hai visto quello che gli è che le garpe stavarcai? Sì però fammi il cazzo del favore adesso! Stai con noi! E tu prima di aprire la porta che scatena l'orda! Controlla almeno se ci stiamo tutti! Ma te sei sempre lontano! Sei sempre fuori! Ma che è? Ma perchè? Io parto! Smetto di considerate! Aspetta! Date pace! Farne più all'arma! Questa merda di fucine non metto! No ma da qui ti mori fa! Bravo! Vabbè! Non lo so meritato! Oh! Davanti te! E io te seguo! Vabbè! Ho visto che ho peggio! Guarda quanti sopra! Vabbè con fronte a prima ne so nessuno! Non so niente! Che c'è qui? io sto a destra ma chi è che mi ha sparato a quello serve a me mi spari ma vaffanculo è la giustizia oh questo mi sta più a destra no ma va davvero mi sto nemmeno sacrare la scena ma se me stanno a sgrugnare guarda si mi metti nel culo sopra mi sono troppo tagliato guarda che vaffanculo mamma mia te mette l'ansia guarda che sono ignorante allora io intanto gli do l'adrenalina ma dove stiamo? sono hooligans l'adrenalina che è? no non è l'adrenalina ma io ho pure una bomba stile col simbolo quello sai delle malattie è quella la vedi di là lontano così loro vanno tutti quanti lì vedi ma con chi sa stavano a pia se voi tre stavate là con quella cosa che ho tirato io ah non capivo perché avevo paura sparati comunque uno di loro dove vai d'orback dio bono occhi che c'è la witch qua ma c'è la witch a priede ma chi te si è in culo no oh oh questo non mi pare witch oh ma vuoi morire eh ti tocca sempre stare a ricaricare mentre non ma vieni al culo ok c'è la dietro eh oddio cortank no dai mi hai incastrato dentro scappa scappa e corri cortank ma tu perché le devi accanì con me perché con me di quello quando giocavamo online si aveva sempre con me scappa ha preso c'è mi ha tirato pure la piazza ma dici che non te salvo mai il culo nel frattempo loro hanno ammazzato il tank e va bene aspetta un attimo te come sta messo io me devo curare ce l'ho io pure io si si ho chiamato il mio ass ho chiamato l'ho tutto bene ok arrivo Romano hai incastrato ah ah no no non mi ha fatto qui è qui è qui è qui allora la sua magliettina allora allora aspettati piedra Senti qua dietro come si taglia Ah era da qua E' chiaro no? Roscella ha ucciso a Jockey Ma chi è? Uh Hai preso un boomer? Sì Scusami Senti come se la mette il cazzo Dove sta a famolo dove? Ah qua Che c'è qui oh? Eh dai perché eri sto da solo? Ma spieghi perché non eri stavo da solo Ma c'è una buona Ti è beccato i antitolorifici Do stai? Do stai che sta arrivando qualcosa di cattivo Occhio stai Mi stavo girando verso lì E l'ho visto Hai ammazzato? No Fermate Finiti i corpi Ma ha fatto che scappurano i antitolorifici Do stanno? Oh Ma spuntanato Mi dice che prende stanti dolorivi Eh piga Ti ho dato Guardi Ma questa Devo provare Usare Stai da mano Occhio Si Ti ho capito Che ha la pistola Ma ti ha preso no? No No Qua c'è una scatola De benzina Occhio Che arrivano E' certo Qua c'è una scatola Stai manadotti da là Via qua C'è una scatola C'è una scatola No 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 C'è una scatola No Non No 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 sono fatti bene ma che cazzo era? chi mi ha dato fuoco? io ma sarai indefice? mi dà pure fuoco non va proprio a giocare con me mi sta andando all'alice ma che riedi brutto fascia de merda sono stato un ruotatino io gioco come da poco ma che cacchier s'è una pezzina non puoi capire occhio, da dove vengono? oh cacchier ma ti sparon testa sei in problema, non ha giusto aspetta un po' andiamo, va paramo, eh che dove vengono questo corello mi face la tenerezza, perchè gli ha sparato? ti sto a curare, poi non dico che mi sono stronzo e certo adesso sei l'unico che ne ha preso fuoco, sei tu avet dato fuoco oh oh, l'artobank no no ma in armari mi dà cosa? la witch, non sparare dai, mi ha preso una lingua non era la witch, mi sa che era la lingua non ha vinto c'è stata la witch, ho sentito il piangere non era la lingua la lingua c'è stata vado fermati, fermati lascia, 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 non fa niente, non fa niente ma sai che noi però siete modiati ma sai che noi però siete modiati ma non dico fa nna tattica però quantomeno uno sparasse addosso e non dasse fuoco potrebbe essere dove sta la witch, la merda? c'è ma io non accendo mai la torcia la torcia la infastidisce la witch eh c'è vista, infatti mica prima mi ha rotto il culo eh oh mi ha da un fastidio io penso alle scale eh basta, arriva tu pensa la con il ruscello e l'artic ma qua c'è sta mia trebbia, io sono musica ecco, la moto che la do io che ho? che ho? per bo porca mamma mia chi è? che c'ha ridato il fuoco? eh io lo tiro il fuoco a quella perchè ma... vedete comunque eh? eh si, è molto da un foglio apposta ok finito il fuoco se, botta col destro comunque le salva il culo si, e prima mi sono osservato come... ah! minchia! cerca di venire l'acido, c'è una fin sopra ma come, ma che sgotta l'hai fatto? lo scelto sta per morir eh beh, da lei è un incubo eh che sta puttana come... sta qui perlati ma che da credito che me ne prega un cazzo lo hai muo di brutta witch del meta ciao witch ciao witch mamma mia guarda come sta uh! oh! aspetta che dobbiamo guarire a questi però no mi sto curando no mi sto... ma voglio curare coso? ah lo sta curando lei è meglio chi te sei curando? curatina pure a me non metare tieni a te c'è stavi, c'è l'hai energia mamma mia lo sai come stavo? che premeva a destra a me si è spostato perchè mi stavi a curare all'ultimo si è sbloccato e quello mi stava arrivando a faccia ho capito perchè negli film si bloccano davanti ai treni ma che sei fatto? andamora ma perchè ne abbiamo giocato subito a questo invece di perde tempo a installare la fatti? vada perchè sta partita? dove stai io? te ce lascerei sta merda ma perchè sta a perdita? io non so non so ma perchè sta a perdita? il cazzo di hooligans ah domanda sempre qui eh lo voglio vedere è mia è un medikit via lo star così dai curi io guardo sopra come la si fa c'è uno zombetto lo lascio con entieri ecco e gli spara era regalo per lui a ellis de merda tanti auguri a te lo zombetto a me guarda che c'è per terra una bella una catana sai io fa me rippe una catana e c'è gente dove? bene io direi che in altro modo Fabio non so mai si è rovinato oh oh sento una come dire? uuuuuh va pesa a me tranquillo caccia tua quantomeno questo brash ma si te levita il cazzo? io? a rochelle taccia la tua va qua no li dobbiamo pensare su venite su ma che dici venite su? so io e l'altro non so guidare nessuno vabbè mamma mia abbiamo coperto la fuga e che cosa? vabbè due le inchieze vabbè eh ma fa male questi saluto di prima in scala avro si ok Mirino laser, ha preso il mirino laser, si, i corpi e qua c'erano degli medikit, ha preso il medikit, si, ma la muovo io, i corpi devo dire, taci tu affio della mignota, i corpi, ok parliamo con questo stronzo, si si ho capito, dobbiamo far giro, però stavolta salta, così la colletti l'ho detto, proprio non uscirò fuori, e Dio come ti ho detto, ok abbiamo capito, siamo pronti, andiamo, dai, sali su, do, si è ricordato da aspettando la merda, guarda che ha fatto il son pato di vita, si, senti che dici, pronti, vado a aprire io e t'apposti, no, domi qui, uno resta là, e l'altro non appiava i coca-coli, tu ora, meglio le coca-coli tre, forse loro rimangono con me, eh? è un pato si, qua sono coca-coli, sai, il mondo è ridotto, siete pronti? qua devi andare con i coca-coli, ecco per questa entrata, io ho appiavato i coca-coli ma che male, pure l'ordine, ma chi è che sei in cura? vado a vuoi le sforze, perché erano sulla ola, e poi possiamo uscire, in relazione a sinistra, dove vanno sta facendo il m***o che... io comincio a andare, di qua a sinistra, oh, sei partito, ma me lo hai avvisato, hai morito nel ladro, guarda che... no, 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 te l'ho detto, io comincio a andare, perché se no non ce l'hai con lì, capito? ecco, di te. occhia le spalle, le copro viva le spalle no, 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 porca pittana bravo eh, quanto è una bambina, il tasto destro, che non mi era abituato a usare un po' di piano poi l'M... come si chiama? M4, questo, per esempio oh, ma stai laggiù, però, non mi spugge dopo fai la schiavo, e ora si vuoi che te curo? no, no, colo su 39, non perdiamo tempo vai, comincio a salire, tanto... ce l'avremmo mai fatta? noo! pezzi da m***o! vai, 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 te li copro io ho sparato agli uomini, pensando... ma sai che sembrano più umani i zumbi, tipo? mi è bella, ho buttato in faccia però, dobbè, mi dedica la vita che sempre rotti i coglioni i zumbi di Romero devono essere enti sul gioco meno che il zumbi l'hanno fatto ci crede mo' invece a me ne parano teppisti parano quelli dei 28 settimane dopo si, sono fatti finiti i colpi ok, ora siamo a meno qua la consegnate, dove tanno cazzo? si, qua è l'auro, qua ma questa l'è giù, no? no, per me ha preso chi è, Rau? a me li che ci ha fatto eh, mi pare che tu apri a me, sta merda oh, sali su, Ellis Ellis, porriera, Ellis Ellis, dove dobbiamo andare adesso? qui, mi devi aprire qua non devi andare giù boh, dove dobbiamo andare? guardate, come cosa sta si, qui, io devo passare qui, sta merda non c'ha aperto no ah no, non c'è di aprire, c'ha riaperto questa porta qui, mi sa, via qua ah no, mi pare che gli dai le coca-cola e te faccio un po' qua davanti, una parte e non bisogna passare spiega di violarmi e poi ripartire me sa che te faceva saltare un pezzo che era chiuso, se no qua c'è il fucile, pure quello è un bruttile si, ma questo per i carri a però no, infatti sta bene così sono lì qui, poi le morano giù qui si, ora c'è la strada, le mannana, è la strada principale ora c'è una parte esplosa, via, segui a me qui dentro c'è san cazzo, no mamma mia, questo non era ricorda, era un flash oh, mamma mia, dove stai, ma che cazzo fatta c'è no, che cazzo l'ha preso perché stai male? perché mi hanno preso la lingua non ti preoccupare, dura poco, sta merda preso mamma mia, stavo quelli sparati vedi la cazzo è esplosa le mannana qua reloading 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 incoming reloading 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 L'unice puttana, ma perchè ti senti sempre l'unice? Perchè la? L'unice? Gli rompico io, ma stai meglio di lato Dai, un idiota presa anche un campo aperto a questi da lontano Ma perchè? Che bordi? Ma perchè non ti attacca lei? No, non ti attacca, perchè non gli rompico io, preso Guardalo sta merda Occhio Hunter Stavo a dire, ma perchè quella ne devo sparare, non ho capito Nei perchè è la più cazzuta, è una di quelle che temina di più Stavo a dire, si spara subito Ma perchè? In che ne spari ti attacca? No, è infastidita dalla luce e dai colpi eccetera eccetera Che hai detto? Attenti, sono... Ma che hai detto? Niente, niente È infastidita dalla luce e dai colpi di chi è spari da vicino Ma se ne va l'audio, stai, non lo so perchè Mi senti? E si abbassa la voce Questa sera appena arsata da letto Oh shit, yeah Orello, questo... Che cazzo è? Ma sta fuori, flash out Ma io c'ho una granata da... da quann'amo iniziato con... Guarda sta merda, ciao Stavolta te la sei presa a te Oh, mica l'avevo visto questo Pazzasi è rozzo questo Entra nella stanza sicura Siamo arrivati Entra fottuta Rochelle Ciao Oh yeah Ok, chiaro Io stoppo che devo una facina Mi sa fuori, invece come so Eh beh, è una certa Che so È 9 e un quarto Ottimo Alla prossima sempre Sperando dove... Ma che famo? Ricontinuiamo da qua? No, non credo Non ne ho la più pallida idea Molto bene Vabbè, dopo... Ci sentimo dopo Ok, ciao Invece li metto Ciao a tutti